A 32 anni dalla strage di Via D'Amelio, un libro che racconta le vite degli uomini della scorta di Borsellino è Cinque vite di Mari Albanese, l'ha intervistata Claudio Reale. Sono le vittime trascurate, quelle derubricate spesso alla voce Angeli di Borsellino. A loro, agli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanue Dalloi, Vincenzo Fabio Limuli, Walter Reddi Cosina e Claudio Treina, è dedicato il libro Cinque vite di Mari Albanese, edito da Navarra. Il volume ricostruisce le loro storie per un esercizio di memoria su questi cinque servitori allo Stato, morti sapendo a cosa stavano andando incontro, eppure dimenticati. Di solito ne sentiamo parlare accanto al nome di Paolo Borsellino, quindi i ragazzi della scorta di Paolo Borsellino, ma in realtà di loro non ricordiamo né volte e non conosciamo soprattutto le storie. Il libro è il frutto di ricerche durate sei mesi. Nel volume, la cui prefazione è stata curata da Enrico Bellavia, trovano posto anche foto inedite dei cinque agenti. Ho iniziato a parlare con i familiari a novembre, e in realtà ho chiuso il libro a maggio, anche perché è stato un lavoro davvero molto faticoso da un punto di vista emozionale. Fra le testimonianze c'è anche quella di Vittoria Delisi, la ragazza che Vincenzo Fabio Limuli progettava di sposare. Dopo 32 anni Vittoria ha deciso di raccontarla questa storia d'amore, ed è stato un passaggio davvero per me molto emozionante. E poterlo donare anche in questo libro è qualcosa di eccezionale, anche per lei. Delisi conserva le ultime lettere del fidanzato, ma anche un tragico ricordo fatale di quella mattina. Limuli avrebbe potuto essere assente in via D'Amelio. Non era suonata la sveglia, ma si è svegliato con un allarme di una macchina, ha chiamato subito a Vittoria salutandola, dandole appuntamento, un appuntamento che poi mancherà la sera dopo il turno di lavoro, e dicendole proprio che ho rischiato di perdere il turno di lavoro se non suonava l'allarme.